Ciao a tutti signori, e benvenuti in questo nuovo video sulla mini-storia di Giallo. Uno dei canali di Discovery Italia, dedicato alle serie televisive e i telefilm proposto, nel genere giallo, dell'investigazione, poliziesco, thriller e misteri. Nato il 14 maggio del 2012, il canale aveva cambiato il suo logo il 13 aprile del 2014, mentre il 18 giugno seguente, è rinato il suo contenitore dedicato ai documentari basati sui fatti realmente accaduti, chiamato, Real Giallo. Dal mese di luglio del 2012, va in onda ogni mercoledì e sabato, il ciclo di film chiamato, I giallissimi. Alla mattina, Giallo ripropone tutti gli episodi delle serie televisive del genere giallo, trasmesse il giorno precedente dal 6 febbraio del 2015, veniva aggiunta la DD Discovery alla sinistra del logo di rete, mentre invece dal 10 aprile del 2020, la luminosa aveva subito delle modifiche, divenendo monocromatica con il logo di Discovery per esteso al posto della D e con la mini storia di Giallo, il video finisce qui. Alla prossima signori, ciao!